Buonasera a tutti. Benvenuti all'ipodromo del Savio di Cesena, prossimi al via i cavalli partecipanti alla prima corsa, una prova gentleman del Trofeo delle Regioni, due colonna Castra Cedro Pro, quattro Cinzia, cinque Ushuaia, De Areal, sei Borea Galli, in seconda fila, sette Ozuve, dieci GSM, otto baciato dai font, nove a Stecca Dimar, dieci Tancredi Sartor, undici Vasterbo, Sky High. Macchina che accelera e stacca, con veloce Cinzia che prende l'iniziativa, con a largo subito Borea Gall che prova ad andare a chiedere strada. In mezzo alla pista rimane Ushuaia, De Areal che precede a Stecca Dimar, ben partito alla seconda fila. Poi ancora Vasterbo Sky High, quindi alla corda Colonna Cassi in seconda posizione che precede Zuvetie CSM, quindici per i primi duecento metri di corsa. La parte di Cinzia, che ha preso con decisione la testa e vuole mantenerla, viene a largo, allora Vasterbo Sky High, era rimasto in terza corsia, gira il gruppo, si porta allo scoperto della battistrada. Rimane seconda in corda Colonna Cassi, mentre Borea Galli riprende in mano perché vuole un posto alla corda, crea un attimo di scompiglio nel treno esterno. I 600 metri se ne vanno in 45-1, ritmo svelto quello imposto da Cinzia al comando. Rimane seconda Colonna Cassi, terza Zuvetie CSM, poi Ushuaia, De Areal mentre cerca di muovere in mezzo alla pista Stecca Dimar, prevenendo le mosse di bacciata dai fonti che a un giro dalla fine è ancora in ultima posizione. Cinzia che continua a guidare a buonissima andatura quando si completa il primo chilometro, passato in questo istante in 1'15,6, Vasterbo Sky High al suo esterno, alla corda Colonna Cassi, poi Zuvetie CSM che ora ha la destra libera per andare in scia a Vasterbo Sky High. Lo fa in questo istante a 450 dalla conclusione, la retta opposta alle tribune, passate in 14,9, 1'30 e mezzo in 1'2 per Cinzia che continua a camminare all'avanguardia. Zuvetie CSM che scatta in terza ruota, a gira Vasterbo Sky High che ha avuto percorso durissimo e si porta in caccia di Cinzia. In attesa dell'oppestretch invece Colonna Cassi, la piegata conclusiva con Cinzia che sbaglia, entra in retta arrivo Colonna Cassi, allargo Vasterbo in mezzo alla pista Zuvetie, Zuvetie che scatta su Colonna Cassi che allo steccato si allunga, si allunga Colonna Cassi, Colonna Cassi che viene a vincere netta nel finale nei confronti Zuvetie e CCSM mentre arriva da un altro pianeta Tancredi Sartor che coglie il terzo posto. C'è due 1'6 il totale, 1'16 tra il raguaglio cronometrico per il successo di Colonna Cassi per la quale viene azionata la sirena della giuria per vedere i paletti probabilmente sull'ultima curva, Francesca Consolin, Sediolo, Antonio Finetti, Simone Veneruso, questa è la connection di Colonna Cassi che vince sul traguardo, la prima corsa da parte. Grazie a tutti.